Tornano balneabili i tratti di mare di Pietrarsa e Capo Posillipo. I risultati delle analisi effettuate dall'ARPAC nelle giornate di martedì e mercoledì infatti hanno dato esito favorevole alla balneazione poiché tutti i parametri sono risultati inferiori rispetto ai limiti stabiliti dalla legge. I divieti erano stati adottati dal comune venerdì scorso a seguito dei risultati di precedenti analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Si prosegue nel percorso di balneabilità del lungomare ad est di Napoli ha commentato l'assessore con delega al mare Edoardo Cosenza. Il test precedente fatto secondo il calendario regionale prestabilito era capitato il giorno dopo grandi temporali e quindi il risultato poteva essere non significativo. I nuovi risultati invece confermano la rinnovata balneabilità di Pietrarsa le parole dell'assessore Cosenza.